Questo è un progetto editoriale, realizzato dalla Congregazione delle Suore della Madonna di Loreto, in collaborazione con la casa editrice Mimep Docete. Lo scopo principale di questo progetto è semplice, raccontare la storia di Gesù Cristo, non solo attraverso le parole del Vangelo, ma anche attraverso belle illustrazioni, che possano coinvolgere il lettore nella partecipazione viva agli eventi della vita terrena di Gesù. Il libro presenta, pagina per pagina, un Gesù molto umano, interessato a stare vicino alla gente e molto coinvolto nei problemi sociali e spirituali del suo tempo. L'insegnamento di Gesù rimane molto utile, anche per l'interpretazione dei tempi attuali. Il racconto della vita di Gesù viene fatto da un amico, che lo accompagna da vicino, durante il percorso della sua predicazione, fino alla sua morte in croce e la sua risurrezione. Anche il lettore verrà preso per mano da questo amico e accompagnato a sua volta, sulla via della sequela di Cristo.